E' a Santa Maria dell'Icordia, un paesino alle pendici dell'Etna, che l'altra sera, in occasione dell'inaugurazione del bar di Astronomia Fratelli Calan, ha fatto la sua apparizione come testimonia da uno dei più grandi attori del cinema italiano moderno, Tino Giannino, in arte Morpheus. Vero a servizio. Grazie di essere venuto. Tutto a posto. Per oggi è tutto, vi auguro una buona continuazione dei programmi. Grazie.